Mi chiamo Lorenzini Luigi e insieme a mia moglie Alessandra abbiamo fatto questa esperienza di costruire un'azienda legata alla castanicoltura che è il castagnito del casone. Vorrei dire una cosa, noi siamo molto legati al territorio, non sono solo Marone, il Piazzo nel castagnito del casone perché avevamo trovato questo angolo lungo la statale dove era stato abbandonato a dei livelli incredibili. Ci siamo innamorati immediatamente di questo bosco bellissimo, completamente abbandonato dove c'erano degli alberi secolari, addirittura uno di questi alberi ha più di 400 anni che stava morendo e vedere questo patrimonio che è nato secoli addietro, completamente distrutto, c'è veramente aperto qualcosa, questo albero aveva un unico ramo che andava a cercare un po' di luce e niente, quello è stato il momento in cui abbiamo capito che cosa volevamo fare di quel futuro che ci rimaneva da lì andando avanti, abbiamo coinvolto anche le nostre figlie che si sono lasciate coinvolgere molto volentieri, probabilmente perché abbiamo trasmesso anche a loro questo amore incondizionato per la nostra terra e per la nostra storia. Beh, sono andato bene.